Giochi in musica è il corso di educazione motore dedicato ai bambini più piccoli, dai 4 ai 5 anni, sia maschetti che femminici. In questo corso, in maniera naturalmente ludica, tramite il metodo dell'imitazione, delle creatività, dell'immaginazione, impareranno gli schemi motori di base, il ritmo, la musica e lo spazio, e soprattutto anche collaborare con i compagni, che a quell'età, si sa, non è sempre facile. Il corso di Let's Move è di un'ora e ha una durata di 9 mesi monosettimanale. Non vi è salto che venire a provare. Vi aspetto!